La palla a volo ora dopo la vittoria di ieri sera su Trento, testa alla Champions League per la Sir Perugia che mercoledì sera esordierà nella massima competizione continentale ospitando al Palabarton il Benfica, Antonello Brughini. Oggi abbiamo dimostrato a noi stessi che possiamo giocare ovunque, con il nostro sistema, con la nostra mentalità e questo oggi si è visto, quindi complimenti a tutti dal primo all'ultimo e basta, continuare adesso che è ancora lungo. Sei vittorie di fila, nove vittorie su undici in campionato. Una squadra, quella allenata dal belga Vital Einen, che passa a Trento con la personalità della Big. Atanasievic, miglior giocatore della partita, recuperato al 100%, mette a referto 26 punti. Impeccabile, come al solito, anche il Leona. Praticamente insuperabili a muro Podraskarin e Russo, con Max Colaci che si allunga, si tuffa, si sbraccia, insomma le prende tutte. E poi c'è la regia superba di Luciano De Cecco. Anche in questo caso parliamo di uno dei migliori, forse il miglior palleggiatore al mondo. Noi stiamo pensando a noi più che agli altri, quindi penso che queste vittorie ci danno fiducia, ci danno consapevolezza, però non ci dobbiamo montare la testa perché, come detto, è ancora lunga, ci sono tante partite, tante cose in mezzo, quindi dobbiamo essere tranquilli, lavorare e continuare per questa strada. E tra due giorni sarà Champions League, la nuova stagione del massimo trofeo continentale. Avversario, mercoledì sera al Palabarton, il Benfica Lisbona.